Si torna a scuola tra favorevoli e contrari, tra chi ritiene indispensabile che la didattica avvenga in presenza e chi di contro non vorrebbe abbandonare la DAD almeno per il momento. Nel mezzo ci sono insegnanti più tranquilli dopo aver ricevuto il vaccino e dirigenti scolastici che durante la chiusura hanno lavorato con impegno sulla sicurezza. A Termoli e in quasi tutti i comuni del Basso Molise, ad eccezione di Santa Croce di Magliano, in classe fino alla terza media e superiori al 50%. Questa mattina le nostre telecamere sono state allo Schweizer e all'alberghiero. È stato veramente un bel rientro, anche toccante. Vedere questi bambini con il sorriso che si leggeva dagli occhi ovviamente perché indossavano le mascherine è stato davvero emozionante. Gli insegnanti sono contenti di riprendere le attività in presenza, i bambini altrettanto, le famiglie aspettavano questo momento. Un rientro in sicurezza chiaramente perché i nostri protocolli sono molto rigidi in questo senso, però un rientro finalmente in presenza. Tutte le procedure che avevamo poste in atto le abbiamo confermate. In più abbiamo dotato tutto il personale, docente e amministrativo, osidario e tecnico di mascherine FFP2. Qui abbiamo una percentuale di poco superiore al 50% per quanto riguarda le lezioni del diurno, cioè diciamo gli adolescenti. L'istruzione degli adulti, quindi serare il carcere, viaggia con la percentuale anche del 100% perché le condizioni sono tali che non c'è incidenza numerica di popolazione scolastica.